C'è un tumore, più c'è un osteoporoscalopante che mi sta crollando tutta la schiena. Da un metro e 60 anni sono diventato un metro e vento. Non so che ti devo dire. È una signora prigioniera in casa che non può scendere perché abita al quarto piano senza ascensore. Come avete sentito la signora è gravemente malata, i familiari ovviamente riescono a trasportarla con la sedia, ma questo nel 2020 non vuol dire vivere in maniera dignitosa. Mi faccio appello all'istituzione, soprattutto alla regione, perché come si trovano i soldi per abbattere il ferro di cavallo io penso che si possono trovare anche alcune decine di migliaia di euro per mettere un montacarico e un ascensore all'interno della casa. Allora che non si facessero proclami roboandi quando poi non si riesce neanche a sistemare un ascensore per una persona anziana che vive al quarto piano in via Town de Revella a Pescara. Che si dia concretezza, se ci sono i soldi, alle urgenze. Quella sia un'urgenza e nello stesso tempo bisogna abbattere e trovare delle soluzioni. Credo che una persona di 80 anni abbia il diritto ancora di più di scendere di casa e di vivere serenamente. Non ce la faccio a risalire, a scendere la mattina, ma quando devo risalire alle 2, alle 3 è da morire. Sul 10 potessi l'ascensore, che non cambia manca casa, perché la casa mia è la casa mia. Però non ci sta la strada e ne ha metto manca l'ascensore, che ne so io. Mi voglio affidare a tutti quelli che mi vogliono aiutare. Non ho le preferenze perché non conosco nessuno, oramai la vita mi è finita. Qualsiasi partito, qualsiasi cosa si sta avanti, mi devono aiutare. Porto anche la testimonianza di un papà a San Donato, di un ragazzo di 14 anni che ha la distrofia muscolare e che si trova nel medesimo problema. Cioè ogni mattina per andare a scuola il fratello e il papà lo devono abbracciare e scendere dal quarto piano per terra per farlo andare praticamente a scuola. Ecco, questi sono i drammi della società civile, questo è il momento che l'amministrazione comunale insieme unitamente alla regione, quindi al sindaco Carlo Masci, deve risolvere il problema unitamente all'Ater.